e chiedo la consulenza e la compagnia di Massimo per annunciare gli showman, altro complesso napoletano rimaniamo a Napoli con gli showman che da parecchi mesi mancano dalla televisione e dalla ribalta della musica leggera italiana gli showman sono molto bravi, hanno avuto un lungo periodo in cui hanno modificato sostanzialmente il loro stile adesso fanno uno stile vicino anche questo un po' al jazz, uno stile comunque abbastanza laborioso che richiede una tecnica strumentale non indifferente, poi hanno dei sistemi di amplificazione abbastanza all'avanguardia come questo per esempio, che è del nostro amico James, che è napoletano puro sangue anche se non sembra sassofono elettrico benissimo, allora vogliamo ascoltare gli showman o vuoi dire tu qualcosa a proposito? no, io non posso dire nulla anche perché sono troppo bravi per dire bravi vorrei solo dire questo, cioè che la loro musica piace perché è molto diversa dalla musica che ascoltiamo noi per questo piace e anche perché individualmente direi quasi che sono dei mostri io l'ho sentito molte volte e non mi meraviglio, cioè li ascolto sempre molto molto volentieri a voi i showman bravo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.